Ciao ciao a tutti ragazzi! Mi sono arrivati dei nuovi vestiti bellissimi e non vedo proprio l'ora di farveli vedere! In questi giorni sono stata di nuovo a Procida e ho pensato che sarebbe stato carino registrare un video e fare qualche foto per Instagram con questi bellissimi vestiti. Questi vestiti sono stati mandati dal sito EverPretty e devo dire che sono bellissimi e di ottima qualità. Vi lascerò il link del sito e dei vestiti che ho scelto qui sotto nell'info box. Allora, questo è il primo vestito ed è troppo bello, mi piace soprattutto il colore perché è ovviamente il mio colore preferito. Poi questo tessuto è anche tulle ed è semplicissimo, anche elegante e mi veramente mi fa impazzire. E sì, è veramente bellissimo e semplice. Poi c'è questo qui che è tipo color purpura ed è molto bello. Anche questo ha tessuto tulle. Poi mi piace troppo questo incrocio, tipo così, è molto bello. Anche questo è semplice e anche abbastanza elegante. E comunque anche questo è bellissimo. Mi piace troppo. Poi c'è questo che è ancora più elegante. Però questo devo dire che è uno dei miei preferiti. Come vedete le paillettes diventano sempre più scure. È davvero bellissimo. Mi piace troppo questa fantasia. Super luccicante. È molto molto elegante, ovvio. E comunque è perfetto. Mi piace troppo. Mi piace troppo questa fantasia. Ed ecco qui. Spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e che vi siano piaciuti anche i vestiti. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel like e anche di iscrivervi a questo canale se non siete ancora iscritti. Ricordatevi che lascerò tutti i link qui sotto nell'info box. E adesso incominciamo con i saluti. Ciao Sassi, ciao Maria, ciao Dorotea Aiese, ciao Veronica, ciao Laura, ciao Arfa, ciao Angela, ciao Daria, ciao Chiara, ciao Sofia, ciao Giulia, ciao Lida, ciao Anna, ciao Alice, ciao Ettore e ciao Gianpaolo. E va bene ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.